che fa il moda, per cui io prendo questo abito da impiccione, anzi parliamo un po' di look perché abbiamo un bellissimo servizio che vale la pena di vedere. Guardiamolo subito. Renato, arriva l'estate, non si può non parlare del look. Io voglio fare con te una graduatoria, quindi di promossi e bocciati. Partiamo subito con Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti. Sono due splendidi personaggi perché Francesco Facchinetti ha molto rispetto del pubblico, quindi ha uno stile trendy quando è in pubblico e uno stile bizzarro quando è nel privato, quindi fa uso di tatuaggi, infatti poi grandi performance nel taglio dei capelli, ha fatto i capelli a zero e tutto. La Marcuzzi ha molto rispetto di sé, a volte anche un po' meno rispetto degli altri, usa delle scollature piatte che non la valorizzano per niente, ma lei se ne frega. Belenna è straordinaria perché coniuga la donna e la femmina. Elisabetta Canalis. Cerca di sostenere un'immagine sofisticata, quando lei invece è una donna sostanzialmente modaiola, perché cerca di piacere. Piano piano però penso che si potrà fare. Bocciata. Visto che abbiamo nominato la Canalis, parliamo anche della Corvaglia. Dopo essere stata ex Valletta è diventata trasparente. Il fatto che dire, è un ragazzo, un giovane, è bello, ancora è tutto da fare, però fa dei buoni passi avanti perché alla scala si è presentato molto elegante, molto trendy, però senza cravatta, ma a lui è concesso perché sta sempre in rosso-nero, quindi glielo perdoniamo. Valeria Marini io la promuoverei perché è una bella bambolona. Lo ha fatto, lo fa, ci crede e rappresenta se stessa. Chiorello è un po' nella mia terra, è un gentleman, è un mix fra un uomo d'altri tempi e questa freschezza del nuovo, di uno che prende la vita anche nell'abbigliamento in maniera giocosa. Albano per me è una persona splendida perché ha l'orgoglio dell'essere contadino e nel suo abbigliamento lo manifesta. Quando riguarda i capelli fanno l'idea di questa fin da vamp che lei ha in capacità di sostenere, fra l'altro. Poi parlare di look o di abbigliamento, di come si abbiglia è difficile perché il focus è sulle nudità piuttosto che sul vestito, quindi bocciato. Emanuele Filiberto c'è un'eleganza aristocratica che viene un po' dalla famiglia, è qualcosa che si porta in dote e questo ce l'ha, è un bel bambolotto e in una qualche maniera fa sorridere le persone, quindi promosso. Vittoria Puccini. Lei ha una bellezza romantica e vanescente, che valorizza spesso quando lascia i capelli ricci, naturali, questo biondo oscuro. È una bellezza che deve essere ancora più performante, ma sta crescendo. La bocce lei perché lei possa migliorare e dare più forza al suo stile. Paola incarna mille stili e proprio per questo lei è Paola Cortellesi, promossa sullissimamente. Capparoni ha uno stile, diciamo, grindoso metropolitano, raffinato e poi restringere il focus sul viso, ma se dovessimo allargarlo un po' è uno stile trendy.